Presento ufficialmente la candidatura a sindaco, come nasce questa decisione di scendere in campo? Allora, questa decisione nasce da quando abbiamo iniziato questa coalizione con l'Arcobaleno e i vari movimenti, tra cui il mio movimento femminile Primavera Siciliana. Attraverso questo movimento io mi sono sentita in dovere di fare qualcosa per il mio paese, candidandomi a sindaco per il paese di Patti. Quali sono i progetti, i programmi di questa candidatura? Allora, i progetti sono quelli di continuare a portare avanti quello che lascerà il mio predecessore e realizzando delle nuove strutture per gli anziani, i doni e gli anziani, realizzando delle strutture per bambini, dei circoli, cercare di sistemare la viabilità del paese e anche quella del cimitero di cui mi sono trovata ultimamente ed è davvero deprimente vedere che non si può neanche dare un passo perché si rischia di cadere. Incentivare soprattutto l'agricoltura e il turismo, perché abbiamo un paese dove l'agricoltura potrebbe dare anche lavoro a molti giovani. Questi giovani vanno fuori all'estero, lasciano le famiglie, io parlo in prima persona perché sono mamma, un figlio distante, per cui questa cosa è un po' dispiacevole. I progetti sono tanti, i punti sono tanti, cerchiamo di studiarli pari-basso e soprattutto dare fiducia al popolo di Patti. La nostra è una politica del popolo, quindi io sono nonna che lavora come tutti gli altri e mi sono messa in gioco in questo cammino e spero riuscirà. Ci sono due liste che la supportano? Ci sono due liste che mi supportano, di cui ancora non abbiamo fatto i nomi definitivi. La prima ufficiale sono io nella candidatura a sindaco. Prossimamente avrete anche gli altri nominativi. C'è un clima abbastanza teso nella città di Patti, è una campagna elettorale che si pronuncia difficile, cosa si aspetta? Sì, io so a cosa vado incontro. Io sono una persona molto semplice, non voglio togliere nulla a nessuno, come tutti gli altri, mi metto in gioco pure io, cerchiamo di trovare un accordo. La potrebbe essere il primo sindaco donna? Ma io non voglio essere né narcisista e neanche ipocrita. Giustamente non dico che non mi farebbe piacere salire come sindaco, mi farebbe piacere anche perché io sono da 27 anni che abito qua, però per sentito dire so che il primo sindaco donna sono io, quindi la prima in assoluto. Io sono qua, cerco di acquistare fiducia e come ripeto non voglio togliere nulla a nessuno, scannesca Valcari nessuno, le cose vanno per come andranno. Comunque vada, anche se non dovessi salire, io continuerò a portare avanti il movimento femminile, primavera siciliana e andrò avanti alle regionali.